Buongiorno a tutti, mi chiamo Carlo Falcone, sono il presidente della cooperativa sociale Arte, Musica e Caffè. Noi abbiamo una gastronomia sociale in corso Vittorio Emanuele 400 che si chiama Spizzicarillo. Abbiamo fatto tutto questo per i nostri congiunti più vulnerabili, più fragili, che soffrono di salute psichica, quindi hanno problemi, la maggior parte sono o psicotici o schizofrenci. La maggior parte di loro, prima che iniziassimo questo percorso, era o recluso in casa, quindi oggi è chiamato in questo periodo, oppure nelle varie cliniche e ospedali di salute mentale esistenti. Quindi aprimmo questo negozio a corso Vittorio Emanuele, lo chiamiamo Spizzicarillo e insieme dal 2008, che poi è l'anno anche della scorsa crisi, adesso posso dire, nel senso che ci fu anche una crisi nel 2008 forte di tutto il mondo, noi aprimmo un'attività, cioè nel momento di peggiore crisi noi aprimmo queste attività autofinanziati, perché non abbiamo avuto alcun finanziamento pubblico, quindi dal 2008 fino ad oggi siamo stati aperti, ci siamo sostenuti con il nostro lavoro. Se non c'era la forza di tutti quanti noi, quindi anche le persone più fragili, non saremmo mai riuscite ad arrivare fino ad oggi, perché nei momenti di maggiore difficoltà ci siamo guardati negli occhi e insieme come gruppo ci siamo attivati per andare avanti. E quindi è proprio per battere la solitudine, quindi la nostra vision, come si suol dire nelle imprese, è combattere la solitudine. Abbiamo ragazzi che sono passati, che stavano giusti in casa, che non uscivano, che alcuni ricoverati, alcuni di loro lavorano, altri comunque vengono al negozio e seguono le nostre attività. E quindi è una qualità della vita che è migliorata in maniera vertiginosa rispetto all'inizio. Questo periodo che siamo andati incontro, che stiamo vivendo, questa pandemia terribile, non fa altro che creare questo distanziamento sociale che io ho combattuto per tanti anni. Mentre prima ho fatto di tutto per far uscire di casa questi ragazzi, far uscire fuori le famiglie, perché poi è la famiglia che viene ferita tutta, non è soltanto la persona che sta male, è tutta la famiglia che soffre. Quindi io quando parlo dico che tutta la famiglia è sofferente psichica. Ho fatto una battaglia di anni ormai, come sto parlando del 2005, il negozio che abbiamo al 2008, proprio per combattere le reclussioni in casa, di uscire, di cominciare a vivere, così. E questa pandemia fa il contrario di quello che io ho combattuto. Quindi inizialmente è stato faticoso spiegare ai ragazzi che non dovevano venire al negozio. Già alcune famiglie di realtà avevano preferito cominciare a non far venire i propri figli presso il negozio per paura di questa pandemia. Ovviamente a un certo punto io ho deciso, ho detto non venite. Poi neanche un giorno dopo, un giorno dopo è uscito il livello di PCM, l'ordinanza e noi facciamo il cucinato. Quindi abbiamo giusto, alla fine abbiamo giusto. Dal punto di vista del contraponto, contro il colpo psicologico e anche relazionale, è stato faticoso spiegare ai ragazzi perché non venivano, perché non dovevano venire. E quindi noi abbiamo cominciato a autorizzare i social, come si stanno facendo tutti quanti noi, e quindi ci stiamo vedendo su Messenger, su tutti i social, Skype, tutto quello che esiste adesso, quello che escono più. Quindi abbiamo spiegato loro come si facevano, anche le famiglie, perché a volte le famiglie non sono neanche ben attrezzate da questo punto di vista. E adesso quasi tutti i giorni, ci sentiamo tutti quanti e ci facciamo una chiacchierata e una mezz'ora, perché da quello che allora hanno fatto un lavoro enorme, per fare un sofferente psico, uscire di casa è un lavoro enorme, cioè la paura di stare per strada è enorme. E il fatto che si è fatto un passo indietro così grande in questo periodo è stato tremendo. In più, io aggiungo, ho detto, racconto, che chi ha una sofferenza, la routine dà una mano nel non pensare a questa sofferenza, quindi da serenità e da calma. Proprio i ragazzi che hanno la sindrome autistica, noi ce l'abbiamo al negozio, però quelli che stanno proprio gravi, poi si può andare anche oltre le donne maltrattate che hanno bisogno di uscire, quindi questo fatto di essere chiuso in casa non solo è tremendo per tutti quanti noi, però alcune fasce che sono più vulnerabili, che a volte hanno bisogno di uscire, soprattutto chi ha la casa piccola, questo è un momento tremendo. E io quello che ho criticato in questa fase, che oltre all'aspetto che non lo deve percepire, finanziario e sociosanitario che si deve intervenire, ovviamente, questo è un periodo tremendo per tutti quanti, secondo me prima si doveva intervenire sull'aspetto prelazionale, psicologico e spirituale, aggiungo, per chi crede, a livello di investimenti sto parlando, invece il terzo settore è stato proprio non considerato. L'aspetto relazionale viene sempre il momento più critico che questo quasi, è venuto meno, diciamo così, alla fine è più importante dare i soldi, è più importante ovviamente, ovviamente, però non è secondario a questi aspetti. Il ritorno alla normalità sarà un altro ulteriore lavoro che devo fare con le famiglie della mia cooperativa, cioè come faccio dopo tanti anni che li ho fatti uscire di casa, li ho tirati alla fine, adesso richiamarli, se passa ancora altro tempo, sarà ancora faticoso.